a vederla funzionare è proprio bella si dovevamo fare invece che divise le due piste toccava a scaccettarli toccava? a spostarli mandando giù uno da giù avanti e fai tra tra per essere sicuro e lì fai i morfetti e le gambe o le piste perché si lo mette più tocca